Buonasera a tutti e benvenuti al nostro consueto appuntamento per darvi informazioni, comunicarvi un po' di dati e fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus e quello che si sta sviluppando un po' nella nostra città rispetto alle cose che stiamo facendo per fermare il virus stesso. Sono 23.092 in Emilia Romagna le persone positive, 225 in più rispetto alla giornata di ieri. È un aumento, diceva lo stesso Venturi, inferiore all'1%, uno degli aumenti più bassi registrati dall'inizio della pandemia, un segnale senza dubbio positivo. Sono 282 le persone ricoverate in terapia intensiva, quindi una in meno di ieri, vuol dire che abbiamo disponibilità uno dei posti di alta complessità in più per fronteggiare le situazioni più difficili, così come positivo anche il numero, il cosiddetto saldo dei posti Covid sulla rete ospedaliera della regione Emilia Romagna, sono infatti 99 posti Covid che si sono liberati nella rete ospedaliera. Questo lo dico sempre, anche in virtù del fatto che sempre più situazioni vengono gestite direttamente a domicilio. Oggi è un bel dato anche quello che si può comunicare sul tema delle nuove guarigioni, un dato estremamente elevato, sono 435 le persone guarite, quindi col doppio tampone, nella giornata di oggi, in realtà sostanzialmente tra oggi e ieri, quindi dall'inizio della pandemia 6.701 persone sono guarite, sono uscite, quindi dai 23.000 vanno sottrate 6.700 persone che sono uscite direttamente dal virus, quindi dalla malattia stessa. Sono in totale 135.000 i tamponi fatti dall'inizio della pandemia, 5.348 quelli effettuati nella giornata di ieri. Arriviamo ai numeri di Modena. Modena si attesta a 3.449 casi di positività, sono 38 in più di ieri. Di questi 38 fanno parte 5 casi in più di Carpi, che arriva quindi a 436 casi di positività e purtroppo dobbiamo registrare un decesso che ci porta a 50 decessi dall'inizio della pandemia. Un numero 50 comincia ad essere un numero estremamente grande, non è solo un numero, lo dico tutte le volte, è una persona in meno in questa comunità ed è una persona che mancherà a questa comunità perché l'abbiamo persa in questa battaglia, ma quel numero deve aiutarci a comprendere quanto del nostro stile di vita stiamo cambiando adesso e quanto, lo cominciamo a dire sempre più spesso, dovremmo cambiare anche quando almeno la fase di picco emergenziale sarà risolta. Non sfugge a nessuno infatti che se siamo stati estremamente efficaci nel non riuscire a mettere in crisi le strutture sanitarie in questa fase, i numeri che vi leggo sempre sulla terapia intensiva e sui posti covid danno questo tipo di visione, dall'altro punto di vista dobbiamo anche immaginare che sapete bene che fino a che non c'è un vaccino in campo o fino a che non ci sono numeri che ci consentano la cosiddetta immunità di gregge, da questo punto di vista sarà fondamentale avere sempre più test sierologici che sono quelli che ci dicono anche, ci danno la presenza anche di quelli che sono cosiddetti positivi asintomatici per capire quanti di noi possono o sono stati o possono essere effettivamente veicolo del virus e quanto in realtà alcuni non siano più veicolo del virus, che questo ci mette in condizioni di capire quanta potenzialità il virus di diramarsi ancora. E questo però ci deve far immaginare che anche laddove arriveremo a riaprire il tema delle attività economiche, che sapete insomma si sta avvicinando un momento anche di riapertura di alcune attività economiche, non solo, a prescindere sia nei luoghi di lavoro che nei luoghi che vivevamo in termini di socializzazione, non dobbiamo immaginare che a una data precisa il giorno dopo sia tutto come prima, non lo sarà, non lo sarà per diverso tempo, ci aspettano mesi in cui il corretto comportamento igienico sanitario sarà fondamentale per perseguire l'obiettivo di non, come posso dire, rialimentare la fiamma del virus stesso, di non avere una ricaduta e questo insomma pian piano dobbiamo mettercelo in testa. L'ho sempre detto, dobbiamo conquistarci l'opportunità di ritornare fuori da casa, ma lo dovremmo fare nei dovuti modi. A questo proposito vi segnalo che nella giornata di stamattina sono state distribuite ancora migliaia di mascherine dinanzi a sei supermercati della città che si aggiungono ai sette di ieri, in più oggi siamo andati anche presso la frazione di San Marino a distribuire le mascherine. Domani le altre sei frazioni, escluso San Marino, avranno i banchetti sempre con i volontari della protezione civile per distribuire le mascherine dinanzi a quelli che sono un po' i luoghi commerciali diffusi anche di piccolo commercio diffusi nella frazione per dare in modo di dare una mano a chi ha avuto maggiore difficoltà nel avere questo dispositivo di protezione personale. Segnalo sempre questo bellissimo comportamento che tantissimi cittadini hanno compreso di rifiutare la mascherina da dove già ce l'hanno, perché quella mascherina vuole essere un piccolo segno di utilità per un momento determinato della giornata, perché sapete quella mascherina dura poche ore, è un gesto che aiuta le altre persone prima che la persona stessa, perché sono mascherine che evitano di contagiare le altre persone essendo mascherine chirurgiche. Alcune informazioni che volevo darvi per arricchire insomma un po' il quadro della giornata. Oggi in giunta, quindi da domani troverete queste informazioni anche sul sito. una decisione sofferta perché insomma sapete che questa città quanto è innamorata della cultura, ovviamente abbiamo preso atto della non possibilità di riniziare la nostra stagione teatrale, una cosa di cui questa città, ma io dico tutti i cittadini sono sempre andati estremamente orgogliosi, il maestro Guaitoli che dirige il nostro teatro, una stagione che aveva venduto già tantissimi abbonamenti, tantissimi biglietti per gli spettacoli. Bene, ovviamente abbiamo preso atto che non riusciremo ad aprire, a riaprire la stagione teatrale per ovvi motivi e quindi i 14 spettacoli rimanenti sono stati ufficialmente annullati. Si potrà presentare la richiesta per gli abbonati e per chi aveva già un biglietto in mano entro il 31 maggio di risarcimento tramite l'emissione di un voucher che varrà per la prossima stagione teatrale. Quindi non perdete quelle risorse che avete investito sulla nostra stagione teatrale, se fate richiesta entro il 31 maggio 2020 e quindi entro 30 giorni dalla richiesta riceverete un voucher senza dovervi muovere da casa perché questa comunicazione la stiamo dando anche a chi ha lasciato la propria mail, il proprio indirizzo al fine di avere un voucher che varrà appunto per la prossima stagione. C'è anche un piccolo movimento che si sta muovendo nei vari teatri d'Italia di qualcuno che rinuncia al voucher e vuole essere un segnale di sostegno al mondo della cultura. Non è obbligatorio, io ve lo sto soltanto segnalando perché molti hanno compreso la difficile situazione in cui versa in questo momento anche il mondo della cultura e dello spettacolo in Italia e quindi fate voi, ovviamente è nel vostro diritto e saremo ben lieti poter mettere un voucher che vi permetta di partecipare alla nostra stagione teatrale che appena sarà possibile rimetteremo in campo perché insomma è uno dei nostri tratti distintivi, quindi un po' di di tristezza oltre che per altre notizie le lasciamo anche a questo che è un pezzo della nostra vita. Ho anche cose un po' più simpatiche da dirvi e carine, ovviamente nella giornata di oggi sono cominciate ad arrivare tutte le mail che riportano direttamente il bonus per la spesa, molti di voi riceveranno la mail direttamente con il codice, con i bonus che sono stati assegnati, stamattina abbiamo fatto una conferenza stampa, la potete ascoltare anche direttamente dalle dichiarazioni che abbiamo messo su questa pagina, è un'operazione che sta funzionando molto bene, io oggi sono andato anche a trovare i volontari che stanno preparando anche le borse alimentari perché ad integrazione su alcuni casisti che vengono date e consegnate delle borse alimentari, quelle borse alimentari sono state fatte e ovviamente realizzate in particolar modo dal volontariato oltre che l'associazionismo locale. Un ringraziamento speciale, me lo permettetelo, agli operatori dell'ambito delle politiche sociali dell'Unione Terre d'Argine e quelli che lavorano in particolare su Carpi e insieme a loro il personale della pubblica istruzione. Sono riusciti a fare in tempi estremamente ridotti qualcosa di molto importante, molto ricco perché riusciremo a dare un sostegno veramente forte anche con le borse alimentari oltre che con i bonus spesa perché in questo modo rispondiamo a quasi 1800 domande che sono arrivate con un cospicuo aiuto che permetterà spero per un po' di tempo di avere alcune situazioni sotto controllo. Ovviamente siamo riusciti a intercettare, questa è una soddisfazione, tutte quelle casistiche che erano rimaste escluse in particolar modo da altri ammortizzatori sociali o altri provvedimenti di questo tipo. Sapete che le autocertificazioni vengono controllate della Guardia di Finanza, io però vi voglio parlare anche di, io non so neanche il nome di questa persona, però a me questa cosa va di dirla perché è una cosa estremamente positiva. Una persona aveva fatto domanda per avere il bonus spesa, ne aveva regolarmente diritto, dopodiché si è accorta perché c'era un po' di ritardo da parte dell'Inps su una risposta che gli sono stati devoluti 600 euro, ha telefonato e ha rinunciato al bonus di cui aveva assolutamente diritto dicendo avevo paura, non mi sarebbero arrivati i soldi dell'Inps, mi sono arrivati vi segnalo che rinuncio al bonus spesa. È un gesto che io reputo essere un gesto di un cittadino o di una cittadina, veramente non so il nome, però che mi fa dire che bisogna essere orgogliosi e che anche nella difficoltà chi ha queste dignità, spero, purtroppo non lo posso decidere io, che nella vita venga premiato perché anche in questi passaggi dimostrare queste cose, insomma a me personalmente farò andare in pelle d'oca perché significa sentirsi parte di una comunità e capire quando la comunità ti sta aiutando e quando tu puoi essere una parte della soluzione del problema. Lo hanno capito tantissimi quelli che stanno facendo le donazioni, le stanno facendo in particolar modo al nostro conto l'Unione Terre d'Argine, siamo arrivati a 269 mila euro raccolti in totale, sapete che l'ambulanza, l'automedica, adesso ci stiamo confrontando con la sanità anche per ulteriori obiettivi, ma c'è stata una risposta veramente importante e straordinaria e altri lo stanno facendo sulla raccolta per la spesa alimentare, per l'emergenza alimentare quindi continuano ad arrivare anche risorse da questo punto di vista. Oggi abbiamo incamerato una donazione che vi abbiamo comunicato della comunità indiana di Carpi, insomma essere cittadini passa anche da questo, passa dalla capacità di capire che se il mio vicino di casa sta bene è più probabile che stia bene anch'io. Se il mio vicino di casa non sta bene, posso provare a immaginare di star bene, ma prima o poi il problema del mio vicino di casa diventa anche un problema mio. E questo io lo dico con orgoglio perché il movimento di solidarietà che abbiamo sentito in questi giorni dove non potevamo muoverci è stato qualcosa di straordinario. Stamattina ero appunto al capannone del Carpi Fashion System dove si preparano le borse alimentari, c'è una squadra che si dà il cambio con l'altra in continuo, sono tantissimi quei volontari, hanno un sorriso sulle labbra, sanno benissimo cosa stanno facendo, sanno dove bisogna arrivare, sanno che emergenza c'è, stanno lavorando in maniera frenetica. È un'esperienza importante, si aggiungono alle schiere dei volontari della protezione civile, della Croce Rossa e delle altre associazioni che sono sul territorio, che si sono messe a disponibilità di tutto, degli assistenti civici. Insomma c'è un movimento qua che se dovessi fare la lista probabilmente ricomprenderei una parte fondamentale della nostra città. È la Carpi che conosco io e della Carpi di cui vado anche estremamente orgoglioso. Volevo dirvi che dalla giornata di venerdì ricomincia il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Ora un appello, c'è sempre stato il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, c'è stata una sospensione per questo periodo in virtù anche della chiusura al pubblico, non alle aziende, ma al pubblico delle isole ecologiche. Adesso si riapre, ne colgo per l'unesima volta l'occasione. Ricordatevi che se dovete buttare via un frigo, un lavandino, una camera da letto, diventa poi anche singolare capire come si può buttare via una camera da letto in questi giorni, visto che non c'è il posto dove andare a prendere quella nuova, ma accadono cose di questo tipo, se telefonate ad IMAG con appuntamento ve la vengono a prendere sotto casa. Non dovete neanche fare la fatica che qualche pazzo o pazza ha di doversela caricare e buttarla in un fosso, che è una delle cose più assurde soprattutto quando è un servizio gratuito di ritiro di rifiuti ingombranti direttamente a casa. Anche nei mesi scorsi, molto prima del covid, qualcuno continuava ad abbandonare rifiuti ingombranti. Immaginate la gioia del sottoscritto quando gli arrivava la fotografia del divano, del letto, del materasso, me lo ricordo ancora, con il maledetto materasso in via Sbrilanci, quando semplicemente questi rifiuti, se vuoi, te li vengono a ritirare a casa. Quindi si tratta di essere persone normali, non dico neanche troppo intelligenti, ma normali, che sanno che con la telefonata ti vengono a ritirare tutto quello che devono ritirare direttamente sotto a casa. L'ultima cosa, ci avviciniamo a una giornata che in questa città, ma io penso anche tutto il paese debba sentire, che è la giornata del 25 aprile, stiamo preparando una serie di cose, ma sono tutte cose per le persone che devono stare a casa. Il 25 aprile, lo dice chi, guardate, geneticamente, mi passate questo termine, è attaccato a quella festa, ognuno la festeggerà come vuole, se c'è questa iniziativa del pensare anche di cantare, e bella ciao, bene, tutto quello che volete, però non ci saranno assembramenti. Noi vivremo il 25 aprile, e con i valori del 25 aprile, ma tra questi vi è anche il senso di adesione a una comunità collettiva, quel senso di adesione lo si dimostra senza fare assembramenti. Quindi non è il 25 aprile, è un giorno dove si può venire in piazza, non cambia niente, purtroppo sarà un 25 aprile diverso dagli altri 25 aprile, dalle altre feste della liberazione, ma non si verrà sotto il municipio, potrete collegarvi alle pagine social per vedere quello che sarà un po' lo svolgimento di una manifestazione che sarà vissuta a distanza, ma non per questo senza i sentimenti che ci legano a quella giornata. Io vi saluto, vi auguro una buona serata, spero di trovare qualcuno, insomma, cercherò qualcuno che mi tagli i capelli perché sto notando che da una diretta all'altra qua il ciuffo aumenta e calano quelli al centro, però insomma facciamo quello che si può. Buona serata a tutti.